Un processo per fallimento al Tribunale di Firenze dura in media 2.276 giorni, mentre le pendenze finali, ovvero i processi ordinari ancora da smaltire, a fine dicembre erano 17.853. Si tratta solo di alcuni esempi dei dati del bilancio consumtivo del Tribunale di Firenze che nei prossimi mesi verranno messi online sul nuovo sito del Foro di Novoli. Il tutto in nome di una maggior trasparenza e di una migliore interconnessione tra l'istituzione giustizia e i cittadini. Rapporto messo in crisi anche dalle carenze d'organico che lamentano i Tribunali. Il personale sta diminuendo a vista d'occhio senza che venga reintegrato in nessuna maniera. Se non si può parlare di smantellamento ancora della pubblica amministrazione, credo che ci manchi poco. Basta continuare così. Noi cerchiamo di ovviare a questa situazione cercando di stabilire delle sinergie, sinergie con le altre istituzioni, prima di tutto gli enti locali, i comuni e la Regione. Ed è quest'ultima che da maggio 2011 attraverso il Fondo Sociale Europeo ha messo sul piatto 600 mila euro per un progetto che interessa non solo Firenze ma anche le procure di Lucca e Livorno. La collaborazione tra la Regione e il Tribunale va avanti da tempo. Noi abbiamo contribuito alla cancelleria elettronica e quindi la possibilità di un rapporto telematico tra utenti e Tribunale e ad altri progetti. Tra questi soprattutto il nuovo sito web da cui l'utente potrà scaricare la modulistica necessaria per sveltire le pratiche in Tribunale piuttosto che prendere visione di tutti i registri pubblici. Obiettivo velocizzare i tempi burocratici della giustizia.